Bene ragazzi, buongiorno, siamo qui oggi con un nuovo video. In questo filmato vi mostrerò come sostituire le luci targa nella Giulietta. Andiamoci di un cacciavite a taglio come questo, piccolino. Ci basta andare qua sotto. Entrambi i portalampada vanno smontati nello stesso modo, a differenza di quelli della Mito. Si va con... Vedo se mette fuoco, ok. Ok, si va con un cacciavitino dentro questo foro, questa parte vuota. In entrambi i casi, sia per quello di destra che per quello di sinistra, bisogna automaticamente infilarlo, premere verso destra e... Ok. Sganciare Questo dentino. Stessa procedura, vale anche per l'altra parte che ho già smontato, per farvi vedere. Vedete che sono attaccati nello stesso modo. Ok. A quel punto ruotate in senso antiorario il portalampada e sostituite la lampadina con una comunissima T10. Ok. 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 Ok.